Rifinitura all'Adriatico Cornacchia nel pomeriggio per il Pescara, 24 ore dal debutto nei playoff. Domani alle 16 il Defino sfida la Carrarese per il primo turno. Subito una gara secca da dentro o fuori per calarsi in una realtà nuova con margini di errore prossimi allo zero. Un percorso che ci si auspica possa essere molto lungo, anche perché il Pescara, pur in una stagione decisamente al di sotto dell'attese, per Blasone non può essere mera comparsa ma ha il dovere di essere ambizioso. Luciano Zauri alla sua quarta panchina della parentesi 2.0 conferma che la squadra è pronta e non dovrà farsi condizionare dall'opzione del doppio risultato. Pronti assolutamente sì, non possiamo non esserlo. Le difficoltà per noi così come gli altri ovviamente è quello di ottenere il massimo in pochissimo tempo, per cui siamo assolutamente pronti. I ragazzi insomma ripeto sono andati bene, sono belli carichi, come gli dico spesso la partita inizia domani alle 16, non oggi, quindi la partita va preparata bene ma mentalmente bisogna arrivarci pronti, non che la partita abbiano già giocata perché ovviamente la pressione è quella che fa parte del nostro mondo ma dobbiamo riuscire a gestirla. È chiaro che 2 su 3 per noi è un piccolo vantaggio ovviamente ma dobbiamo giocare per vincere, non possiamo pensare assolutamente alla gestione, questa squadra non è non è capace di gestire le partite, quando ti chiami Pescara la pressione è sempre altissima e deve essere così e noi siamo onorati di portare questo nome, quindi noi affrontiamo questi playoff per fare il massimo, quindi Pescara non teme assolutamente nessuno e siamo consapevoli, ripeto, di voler fare dei grandi playoff. Non sarà assolutamente semplice ma abbiamo tutte le armi per poter fare bene. Drudi è recuperato ma come riferito da Zauri non ha svolto la settimana a pieno regime, ecco perché il Lanes è favorito per un posto al fianco di Ingrosso, Zappella e Veroli, gli esterni di difesa, dal centrocampo in su non ci saranno sorprese, Derisio vertice basso, ai fianchi Pontisso e Pompetti, davanti Dursi, Ferrari e Clemenza. Out frascatore recuperato per la panchina Chiarella. Sul fronte Carrarese indisponibili Imperiale e Figoli, Petrelli, Infantino e Lex Giannetti non al massimo ma Zauri avverte. Carrarese è una squadra molto interessante, molto ben allenata che insomma interpreta questo modulo che credo sia quello di riferimento col trequartista e le due punte, è una squadra molto organizzata che insomma non molla e sarà un avversario assolutamente ostico da affrontare. Dobbiamo migliorare tra le murami che aggiunge Zauri, conscio che la migliore gara della sua gestione è stata quella di Pistoia, mentre l'Adriatico contro Grosseto e Imolese la squadra ha lasciato a desiderare. Ma giocare in casa deve essere un vantaggio, specie dopo il comunicato dei Rangers pronti a sostenere la squadra. L'apporto dei tifosi è fondamentale per una squadra, è chiaro che la situazione che qui, che si è creata in ultimo periodo ovviamente non giova alla squadra perché avere insomma una curva che ti sostiene, comunque lo stadio pieno per noi è un valore aggiunto. Il pescare di pescare, ci auguriamo di insomma di avere più gente possibile allo stadio perché comunque i ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti perché insomma le partite si vincono anche con e soprattutto con il sostegno della gente.